Abbiamo superato un'evasione fiscale internazionale nel settore dei metalli preziosi e questo grazie a un dispositivo permanente di contrasto ai traffici legati che ci permette di monitoraggio dei soggetti con un più elevato profilo di rischio. Tra questi non potevano mancare i soggetti coinvolti in passato nell'indagine chiamata Fortnox della Guardia di Finanza di Arezzo in materia di riciclaggio di materiali preziosi. Era già noto alle fiamme gialle per essere stato coinvolto nell'operazione Fortnox ed adesso è finito nuovamente nei guai un imprenditore aretino di 60 anni. La Guardia di Finanza di Arezzo ha infatti scoperto un'evasione fiscale internazionale per 30 milioni. La Guardia di Finanza da tempo stava osservando i movimenti dell'imprenditore aretino a suo carico anche in arrogatoria della procura presso il Tribunale di Isbruck. Avevamo una società fittiziamente residente in Austria ma che aveva il suo cuore gestionale, l'amministrazione qui in Italia e pertanto in Italia doveva soggettare i propri proventi. In una fase successiva invece abbiamo acquisito elementi per cui questo soggetto aveva spostato il tiro, si era spostato in Ungheria motivo per cui lui in Italia vendeva oro alle società di Arezzo concludendo dei contratti in nome e per conto di questa impresa estera ma svolgendo un ruolo decisivo nella conclusione di questi contratti. Quindi configurava in Italia una stabile organizzazione occulta che quindi operava in completa evasione di imposta sul territorio italiano. I finanzieri inoltre avevano sorpreso l'uomo con 5 kg di oro e 11 di argento pur in grani di dubbia provenienza totalmente ignare dei traffici illeciti dell'imprenditore e le aziende aretine. L'evasione era nell'anello superiore a livello del fornitore. L'uomo è stato denunciato per omessa presentazione della dichiarazione fiscale. Sono stati inoltre sequestrati a garanzia del credito erariale ben immobile e disponibilità bancarie per oltre 150.000 euro.